sugli incendi che stanno colpendo tutto il sud, in particolare la Campania e la Sicilia, roghi in tutto il sud, a San Bitolo Capo, turisti soccorsi con le barche, scrive la Repubblica. Vediamo proprio un'immagine di questo incendio a San Bitolo Capo nel Trapanese. Fiamme senza tregua, fuga dal resort e ieri proprio sono partite anche alcune squadre dei vigili del fuoco, dal Friuli Venezia Giulia, in particolare dal comando di Udine, da quello di Trieste, per offrire un aiuto nel napoletano. Andiamo a vedere anche questi titoli sui tagli mai fatti, ogni giorno una società pubblica in più, sono 9.000, scrive la Repubblica, tanti inutili dai casino alle terme. E poi ancora, andiamo a vedere ancora questo titolo, il caso manovra l'Unione Europea, approva la flessibilità sui conti, con i fondi risparmiati diventa possibile evitare l'aumento dell'IVA. Spostiamoci però adesso anche sulla prima pagina del Corriere della Sera, che in taglio alto ha questo titolo, Renzi in trincea contro tutti, lettera UE, sia la flessibilità nelle regole, manovra più leggera, decreto banca, inoltre passa la fiducia, e poi appunto su Renzi attacca Banca Italia, letta il mio non fu un golpe, la replica da psicanalisi. Restando sempre in questa prima pagina andiamo subito dunque anche a vedere il titolo, l'immagine riservata al vertice di ieri a Trieste, Gentiloni che ha incontrato il presidente francese Macron e poi anche Angela Merkel, Gentiloni incontra anche Merkel, pochi progressi e vediamo appunto un'immagine di questo arrivo di Macron, come detto al Sammi di Trieste. Macron non sempre la Francia ha fatto il possibile sui migranti, dunque il vertice a Trieste tra Italia, Francia e Germania, leader dell'Europarlamento, non ha prodotto sul tema di migranti risultati sufficienti, questo lo ha detto proprio il premier italiano Gentiloni. Il presidente francese Macron, come detto che ha riferito Parigi, non ha fatto abbastanza sui rifugiati, ma non cederà sul fronte dei migranti economici. Rispetto a questa prima pagina ovviamente c'è l'altra tematica del giorno, che è quella dei roghi, qua si puntualizza sui roghi in Sicilia, con i turisti in fuga con le barche, si parla di record di interventi dal 2007. Spostiamoci ancora, andiamo su un'altra prima pagina, adesso andiamo assieme sulla stampa, che titola così, tra le notizie non viste, la rivolta dei professori stipendi fermi da sei anni, blocchiamo l'università. La minaccia, decisi a disertare la sessione autunnale di esami, investimenti limitati, siamo al diciottesimo posto nell'Ocse, il contesto non è favorevole, scrive la stampa, crolla il numero dei docenti. E poi anche qui l'incendi che non danno tregua, paura San Vitolo Capo, dunque fiamme vicino al resort, i turisti come visto che sono fuggiti in barca e vediamo appunto quest'altra immagine su quanto avvenuto. Rispetto al vertice di Trieste il titolo è questo, Gentiloni attacca Macron, tu non capisci il caso migranti, quindi vediamo comunque queste tensioni anche su ancora questa importante problematica. Andiamo a vedere anche questo dossier proposto oggi dalla stampa, Sogno Balcani dalla pace al commercio, i paesi dell'ex Yugoslavia seduti allo stesso tavolo per il trattato sui trasporti. E appunto viene riproposto questo dossier su questo aspetto. Continuiamo però il nostro confronto e adesso andiamo anche sulla prima del manifesto che in apertura ha questo titolo accompagnato da questa immagine. Banchi del mutuo soccorso, passa dunque alla Camera senza modifiche, col voto di fiducia il decreto sulle banche venete che Padovan e l'Unione Europea volevano intoccabile. Regala intesa figliali e clienti con la garanzia di miliardi pubblici, scrive il manifesto. Il Movimento 5 Stelle scatenato in aula, la sinistra divisa nel voto. Anche qua ovviamente gli incendi e si puntualizza i pochi Canadair a disposizione e poi ovviamente ci sono molte notizie anche sul trilaterale e sul vertice ospitato a Trieste con tutti questi importanti referenti internazionali. Noi però adesso ci spostiamo anche su Libero che in primo piano ha sempre il tema dei roghi, degli incendi in particolare in Campania. A Napoli si bruciano da soli, altro che incorpare lo Stato assente, il titolo. Piromani inceneriscono oltre 100 ettari di bosco per boicottare il nuovo Parco Nazionale del Vesuvio e salvare migliaia di case abusive da abbattere, scrive Libero. Il sindaco si straccia le vesti ma non fa nulla contro i criminali, intanto i turisti fuggono. E poi vediamo questa immagine tra i principali temi affrontati che però riguarda i nuovi palinsesti della Sette che pendono a sinistra, riferisce Libero, Cairo volta pagina, la preferisce rossa. Ecco questa appunto tematica. Andiamo però anche sul giornale per parlare ancora di emergenza migranti. Il titolo che vediamo è questo, è ufficiale, ce li teniamo tutti. Nessun paese dell'Unione è disponibile agli sbarchi, così Frontex ci condanna all'invasione sullo Iussoli, scrive il giornale, continua la guerra di nervi tra Gentiloni e Renzi. Anche qua ovviamente la Sicilia in fiamme in primo piano e poi passa la fiducia sul decreto con 318 sì, appunto il caso delle banche, adesso le banche sono salve, Matteo resta col cerino in mano, titola il giornale. Andiamo però adesso anche sulla prima pagina del Fatto Quotidiano che è tra i temi principali, è sempre appunto la questione degli incendi, però si puntualizza questo. Grandi riforme, l'Italia brucia, 28 elicotteri a terra e solo 4 in volo, caos vigili del fuoco, arma. Si parla di effetto Madia in questa prima pagina, dopo lo smembramento del corpo forestale di 32 velivoli antincendio, prima disposizione, ieri operativi solo 4, scrive il Fatto Quotidiano. E il coordinamento non c'è più, i verdi che dicono e il governo compra gli F-35. E poi tra appunto i titoli che vediamo, Frontex e Renzi ha ceduto i porti, Di Maio in cambio degli 80 euro. Si parla sempre di migrazione, conferma le accuse della Bonino, l'Italia non può protestare. Andiamo a leggere anche queste parole riservate all'incontro a Trieste di ieri, a Trieste nell'incontro con Gentiloni e Merkel, Macron gela ancora una volta i tentativi del governo di avere concessioni e accoglienze, in Francia sì, solo ai rifugiati. E poi, ancora continuando il nostro sfoglio, andiamo ancora a vedere la verità che in primo piano al tema dei vaccini, il titolo che leggiamo infatti è questo, le ultime bugie sui vaccini per il Presidente dell'Istituto Superiore di Sanità, gli immigrati che arrivano qui sono più immunizzati di noi, ma i dati lo smentiscono e c'è il problema HIV. E poi questa immagine, la Boldrini sbugiardata dalla sua ONU, la smara fascista e patrimonio dell'umanità, un'altra tematica appunto proposta da questo giornale. Altro titolo, la tentata truffa all'Inter degli amici di Babbo Boschi, e ovviamente anche qui si ripropone ancora anche il tema del bambino britannico Charlie, il titolo che vediamo, scusate, è questo, le otto ragioni dei genitori di Charlie, oggi la decisione sulla sua morte. Continuiamo e apriamo assieme anche il Sole 24 Ore, poi ci dedicheremo ovviamente ai titoli della stampa locale, dissipati i rischi di sistema NPL all'8% entro un anno, questo è il titolo, visco, ora le banche cambino, Bad Bank, il tesoro riparte dalla SGA. E poi, in taglio più basso, ecobonus in tre anni, investimenti a quota 9,5 miliardi, un milione di interventi legati all'incentivo, e Eni accelera lo sviluppo in Messico, scoperta da un miliardo di barili descalzi, che afferma prima società a operare nel paese. Passiamo però dunque alla stampa locale, partiamo dal piccolo per un focus dunque sull'importante giornata di ieri, il piccolo sintetizza così le ore trascorse tra i rappresentanti internazionali, summit è riuscito ma i nodi restano, Balcani, giornata campale in piazza unità tra dialogo e divisioni, città in vetrina. Qua vediamo appunto un'immagine scattata tra i leader intervenuti in piazza unità e ovviamente all'interno dell'edizione del piccolo tantissime le questioni affrontate in molte pagine, all'armi profughi, il titolo che leggiamo assieme, Macron e Gentiloni, come visto, che duellano a Trieste, titolo al piccolo, botta e risposta sui migranti economici al vertice con Merkel, fatto poco ma non cedo, progressi non sufficienti, appunto i commenti riportati dei due leader sulla Palinuro, la trilaterale conclusasi con l'impegno di accelerare sull'accoglienza e la cancelliera Merkel che ha detto l'Italia è stata eccezionale. Vediamo un momento della conferenza stampa appunto con Merkel, Macron e Paolo Gentiloni. Quindi rispetto alla giornata di ieri andiamo però a rivedere proprio un servizio preparato per il nostro telegiornale dal nostro Davide Zanirato. Incontro d'impatto, quello avvenuto oggi a Trieste con il trilaterale Italia-Francia-Germania tenutosi a bordo della nave Palinuro sulle rive della città Giuliana nell'ambito del vertice sui Balcani occidentali. Abbiamo confermato la necessità di avere un'Unione Europea più coese e più forte, ha detto il Premier italiano Paolo Gentiloni al termine dell'incontro. L'Unione Europea deve avere una visione e un punto di vista comune in un contesto internazionale come quello di oggi in cui ha una crescita economica promettente a livello globale si associano fenomeni di tensione, di difficoltà nelle relazioni commerciali internazionali oltre che di incomprensione sul piano geopolitico. Per questo un'Europa coesa e forte è anche un contributo alla stabilità e alla pace. L'Italia ha fatto un grande lavoro sui migranti, siamo solidali con l'Italia, ha aggiunto la cancelliera tedesca Angela Merkel. E naturalmente abbiamo anche sempre parlato del problema di cui si trova di fronte anche l'Italia, cioè le nostre relazioni con quei paesi dai quali vengono i profughi da noi. E' proprio l'Italia qui da superare un grande compito. E noi vogliamo essere solidali accanto all'Italia. L'Italia ha fatto qualcosa di fantastico per quanto riguarda la registrazione e l'accoglienza dei rifugiati. Ma noi tutti e tre siamo d'accordo che dobbiamo affrontare quella lotta contro la migrazione illegale, e quindi la nostra cooperazione con i paesi dell'Africa, il Niger e altri è particolarmente importante. E noi vorremmo stabilizzare anche la situazione politica della Libia. Da parte del premier francese Macron è invece arrivata un'importante ammissione di colpa e un'altrettanta conferma. Vorrei dichiarare la mia solidarietà all'Italia. La Francia non ha sempre fatto la sua parte per quanto riguarda i rifugiati. Noi attualmente stiamo accelerando i processi e lo faremo. Ogni qualvolta rifugiate e persone a cui diamo il diritto d'asile sono identificato e la Francia deve poterli accogliere. Ma non possiamo accogliere uomini e donne che per motivi economici cercano di venire a vivere nei nostri paesi. Queste due realtà sono profondamente diverse. Non ricadono nello stesso diritto e negli stessi doveri sul piano morale. Non cederò allo spirito di confusione imperante. Ovviamente su questa problematica, su questo tema nelle scorse ore è intervenuta anche la governatrice Serracchiani. Dunque rivediamo un altro servizio proprio con le sue ultime parole su questi aspetti. Era inevitabile che l'argomento finisse nuovamente al centro del dibattito politico. La questione migranti ha caratterizzato le discussioni del Western Balkan Summit 2017 in corso a Trieste con la Presidente della Regione Serracchiani ad invitare l'Europa a coinvolgere gli stessi Balcani nella gestione dei flussi. È un tema sul quale la rotta balcanica è una rotta che si è chiusa con l'accordo con la Turchia ma che è una rotta che abbiamo ben presente visto che si tratta di paesi che per primi hanno messo su filo spinato e muri e che sono paesi con i quali invece il dialogo deve essere aperto perché il tema è un tema tutto europeo non soltanto italiano non soltanto del Mediterraneo quindi credo che coinvolgere i paesi dei Balcani anche quelli che sono fuori in questo momento dal contesto europeo è importante perché anche grazie al loro prezioso intervento possiamo davvero intervenire sui flussi migratori in modo proficuo. E la governatrice è stata poi ancora più netta imitando l'ex premier Renzi che nei giorni scorsi aveva esortato ad aiutare i profughi a casa loro. Beh insomma io credo che sia arrivato il momento di fare i conti e i conti ci dicono che non c'è posto per tutti non c'è posto per tutti in Italia dobbiamo assicurare anche un'accoglienza dignitosa per farlo abbiamo bisogno di numeri diversi e di un aiuto che venga da altri porti di altri paesi e da altri luoghi di altri paesi e che funzioni anche il progetto di ricollocamento che era la base del progetto Triton per cui credo francamente che l'Europa si debba assumere questa responsabilità e oggi il summit dei Balcani con anche la trilaterale Gentiloni-Macron-Merkel spero nella direzione giusta perché questo accada. Infine la Presidente ha voluto rassicurare sul fatto che alcune delle navi delle ONG che soccorrono i profughi possano venire deviate a nord e a Trieste in particolare. No, questa è una cosa che non esiste non esiste perché non ci sono le condizioni perché questo accada e perché il governo in questo senso è stato molto chiaro e anche molto serio. Certo, noi non vogliamo scaricare su altri porti il tema dei flussi migratori ma vogliamo però che ci si faccia carico tutti insieme di questo tema perché non è un tema che possiamo lasciare soltanto al nostro paese. Ci sono ovviamente tante pagine dedicate a questo importante summit abbiamo visto la governatrice le parole spese rispetto alla problematica dei migranti la governatrice che ha anche affermato il summit è stato un successo per Trieste per l'intera regione e poi rispetto a questo summit vediamo anche l'immagine del premier Gentiloni e il titolo è riferito al suo grazie alla bellissima città dal ruolo strategico dall'abbraccio al premier francese fino al saluto finale si è destreggiato fra le beghe europee e i vicini orientali vestendo i panni del padrone scrive ancora il piccolo padrone di casa ha colto tutti i leader in piazza Unità rivendica il risultato che ha ottenuto nella trilaterale ci sono curiosità in queste pagine anche sull'assalto di centinaia di giornalisti che ovviamente erano quegli accreditati circa 300 che hanno preso d'assalto la zona rossa di Trieste e poi tra le varie curiosità anche Boris Johnson che è stato il primo big ad atterrare c'è stato questo super lavoro all'aeroporto di Ronchi dei Legionari oltre alle varie delegazioni anche un velivolo anti-interferenze radio però ovviamente ci sono anche tante fotografie proposte oggi Instagram e Twitter sui profili dei Udip Trieste che diventa dunque virale anche grazie ai social a queste immagini online Macron e Boris Johnson che cinguettano dal vertice e Palazzo Chigi che omaggia la città di una fotogallerie vediamo appunto alcune di queste immagini proposte però come detto ci sono i titoli che si riferiscono anche alla spinta all'allargamento nei Balcani da Trieste dunque un piano d'azione per accelerare i processi di integrazione anche gli schemi sintetizzano un po' la situazione i protagonisti anche dell'evento e poi anche si fa il punto sulle imprese italiane in pista di lancio il ministro Calenda che ha detto regione dunque strategica prioritario investire nei collegamenti c'è anche questa doppia pagina sull'Italia che vuole essere in prima linea per contrastare la corruzione a est il presidente dell'autorità nazionale cantone a Trieste ha detto dobbiamo evitare gli errori passati nell'allargamento e anche questa è una tematica affrontata dal piccolo di oggi ma poi si fa presente anche le imponenti misure di sicurezza anche qualche disagio che comunque è ricaduto sulla popolazione in occasione di questo importante avvenimento la città la zona rossa come in un film agenti e silenzi l'apparato di sicurezza ha funzionato a dovere scrive il piccolo artificieri a San Giusto per un furgone sospetto e ovviamente vediamo le immagini sulle ore proprio caratterizzate a queste estreme misure di sicurezza con elicotteri in volo transenne controlli in mare pulizie dell'ultima ora e si parla anche dell'altro vertice molti hanno preferito fuggire in barca la tintarella fa presa più dei leader in piazza unità ma qualcuno loda un evento che valorizza il territorio e dunque sono tanti gli aspetti affrontati rispetto alla giornata di ieri noi però ritorniamo adesso anche su altri sulla prima pagina per un altro sguardo scusate di insieme del piccolo prima di passare al messaggero Veneto ovviamente i titoli principali sono dedicati all'evento di ieri che abbiamo già visto in abbondanza e poi in taglio alto Euro capitale della scienza si parte da squadra e sede andiamo Trieste come sappiamo è stata nominata per il 2020 capitale europea della scienza e poi Piazza della Repubblica al via i lavori dell'hotel nell'ex sede della RAS queste appunto le notizie principali andiamo in taglio basso però anche a Trieste sesso sulle rive la foto va sul web e poi dopo 42 anni in pensione romana signora dei comunali passando al messaggero Veneto all'edizione di Udine e provincia andiamo a parlare adesso come ci riporta il titolo principale di banche battaglia fino all'ultimo votata dunque la fiducia ma il movimento 5 stelle ha fatto ostruzionismo slittato il voto finale andiamo in taglio alto per il titolo sul summit di Trieste i migranti a Trieste Macron che fa autocritica come il bistro e Merkel che ha detto più impegno rispetto alla prima pagina sempre il messaggero Veneto andiamo a parlare anche di Confindustria Petrucco la spuntata su Scarpa ora la parola passa all'assemblea dunque si parla di quella che è definita una vera e propria travagliata successione atto nono ci sono voluti più dei dieci minuti stimati da chi facendo i conti sapeva di avere la maggioranza scrive Elena Del Giudice il voto ha sancito la prevalenza di Pietro Petrucco che rispetto a Germano Scarpa 14 preferenze al primo contro i 12 del secondo un esito che ha confermato scrive la giornalista la spaccatura di Confindustria andiamo in taglio più basso per parlare anche di Mediocredito c'è un'intervista a Cristiana Compagna compagno presidente di Mediocredito FVG che dice così ho portato sulla giusta via Mediocredito e tempo di bilanci infatti rispetto a un'esperienza faticosa e dura dalla quale l'ex rettore ha imparato molto e poi andiamo anche a vedere l'immagine dell'arcivescovo Mazzocato che ha intervenuto anche sul caso del bambino britannico Charlie l'arcivescovo infatti ha detto quel bambino è un martire questo durante l'omelia durante la messa per i santi patroni se mi guardo attorno mi viene da dire ha detto che abbiamo bisogno anche qui da noi di nuovi martiri perché spesso le parole del Vangelo non sono più capite accettate dalla mentalità comune questo dunque il monito di Monsignor Mazzocato lanciato in occasione della messa per i patroni più in basso questo titolo sospetta TPC ricoverata si fa presente questo presunto caso riguardante una donna di Venzone che fa la badante a Trieste e poi per i titoli di spalla andiamo subito a vederli assieme il caso di una Roma in primo piano a condanne per 14 anni ma non si può arrestare sul fattore profughi sulla problematica dei profughi bivacco anche davanti al teatro scatta la protesta e poi dopo una caduta addio alla maestra Sello è morta in Sardegna in taglio basso rispetto a questa prima pagina ricostruzione esempio di federalismo concreto questo articolo di Mario Bertolissi sulla legge post-sisma e poi Stembeck in Vietnam il sovversivo che non contestò la guerra ecco al centro di questo intervento di Paolo Medeossi ritorniamo però dunque nelle pagine interne andiamo alla tematica in primo piano sul salvataggio delle banche decreto salva banche votata la fiducia dunque ma non basta l'ostruzionismo nel momento 5 stelle fa slittare ancora il via libera della Camera e poi tocca al Senato rispetto a questa situazione viene ovviamente proposto anche il commento di Feder Consumatori Puskiasis che dice risparmiatori delusi e convoca i parlamentari eletti in Friuli Venezia Giulia dunque un incontro con i parlamentari eletti in Friuli Venezia Giulia per avviare un confronto che ripristini il clima di fiducia nel sistema dopo il dissesto delle ex Popolari Venete questa è la richiesta che viene da Feder Consumatori regionale che ha convocato per lunedì alle 11 nella sede della regione Udine gli eretti a Roma di tutti gli schieramenti ed è appunto la Presidente regionale dell'Associazione Barbara Puskiasis a spiegare l'importanza dell'incontro e le richieste anche in questo articolo ci addentriamo però nelle pagine riguardanti più nel dettaglio Udine andiamo a parlare anche di tributi comunali una persona su 10 non paga la tassa rifiuti stando a quanto riportato il 30 giugno è infatti scaduto il termine per il saldo della prima tranche dell'Atari incassati 10,2 milioni leggiamo 300 mila euro in meno rispetto all'anno precedente e ovviamente si fa il punto con molti dati e poi andiamo anche nella pagina successiva e parliamo ancora di via Mercato Vecchio progetto rifatto senza l'ok delle belle arti e rischio allagamenti la denuncia dei commercianti nel ricorso presentato al Tar ma il comune scrive il messaggero veneto è tranquillo tutto in regola e a prova di pioggia questo appunto quanto fatto presente in questa pagina e poi si parla anche in taglio più basso dell'ampliamento del Magrini la svolta viene definito il sindaco infatti ha detto che entro fine mese la firma è prevista la firma per il passaggio di proprietà poi l'inaugurazione dei 60 stalli attraverso il messaggero veneto passiamo l'edizione dedicata passiamo anche al Pordenonese rispetto alle notizie non ancora viste andiamo a leggere questo titolo che accompagna questa immagine riguardante Pordenon in Viale Dante cambia lato la pista ciclabile della discordia dunque ha cambiato lato la pista ciclabile di Viale Dante a Pordenone dove prima c'era la pista si ricaveranno 10 parcheggi e secondo il comune svolta più facile per i bus verso piazza risorgimento ma non tutti ne sono convinti viene scritto appunto nella didascalia e poi tra i titoli di spalla Antonucci ha processo dopo il crack della Acheo altro titolo su Pordenone contrattacco dall'ospedale sul corteo dei Novax e per Sacile rapina Villa Polesello ieri il settimo patteggiamento spostiamoci anche nel territorio di Gorizia sempre attraverso il messaggero veneto tra i temi principali l'unità coronarica unica che deve attendere la direzione regionale infatti riceverà dall'azienda sanitaria una proposta di riorganizzazione intanto scatta l'alarme per la senologia e poi rispetto a questa pagina aperta in taglio basso anche qui la questione migranti troppi migranti via da Gorizia la commissione il primo cittadino vuole spostare fuori città l'organo che esamina le richieste d'asilo e questa è proprio un'immagine del sindaco Zibernia che ha incontrato il prefetto Alberti ieri mattina andiamo però adesso anche sulla su una pagina di Gorizia però del piccolo perché anche qui il tema migranti in primo piano l'emergenza infinita in 50 la valletta senza docce né bagni viene fatto presente sono tutti pakistani non siamo pericolosi né terroristi affermano siamo in tanti ma è come essere soli ci resta solo il cricket e vediamo dunque anche una loro immagine spostiamoci per adesso anche sulla prima pagina del gazzettino in primo piano il decreto banche fiducia e polemiche come leggiamo e poi taglio alto tribunale fumata nera sul presidente il csm ha rinviato di una settimana la scelta dopo le polemiche innescate dalle dimissioni di pier camillo da vigo in disaccordo sul nome di tenaglia dunque in primo piano il caso del tribunale di pordenone che dovrà attendere ancora il nuovo presidente in taglio alto un titolo riguarda sacile l'abbiamo già vista come notizia salto la villa polesello patteggia la spia dei rapinatori e rispetto a san vito salute dentista con lo sconto ma ancora sono pochi i pazienti spostandoci in taglio più basso sempre restando sul pordenonese andiamo a parlare sempre di profughi il titolo che vediamo assieme è questo nuovo centro accoglienza della croce rossa e poi sempre rispetto a pordenone il PEA in Polonia multinazionale pronta a trattare in taglio basso per una notizia che proviene anche da Udine con appunto il caso di nomadi incinte sorpresa rubare una delle due deve scontare 14 anni ecografia però in tasca per evitare l'arresto mentre infatti armeggiavano sul cancello di un'abitazione di Udine sono state sorprese nel probabile tentativo di compiere un furto hanno estratto le ecografie che certificano tra virgolette il loro stato di gravidanza ed evitano così l'arresto una delle due donne nomadi attive anche in Veneto a 28 anni come detto deve scontare pene per 14 altro titolo riguarda coordenons donna morì dopo l'investimento nessuna colpa di 4 medici ci spostiamo velocemente nelle pagine interne dedicate al Friuli solo per qualche altra notizia innanzitutto su Sappada ora la legge per Sappada rischia l'affondamento il passaggio a Friuli infatti è stata incardinata al Senato ma il governo sarebbe contrario al Via Libera e poi in questa prima pagina un tema riguarda anche gli aiuti sociali norme anti ritardi l'assessore Telesca che ha annunciato un pacchetto di disposizioni nella manovra estiva nelle pagine alla seguente andiamo a vedere anche questo titolo importante per la notizia sul cadavere trovato a Lignano di una donna si indaga infatti per capire se la donna sia scomparsa da una nave perché ieri è emerso che potrebbe essere di Simone Schauer Sousa una marittima 36 anni brasiliana scomparsa il 19 giugno dalla nave da cruciera musica dalla MSC in navigazione dell'Alto Adriatico il corpo della donna ritrovato domenica 3 luglio a largo delle foci del tagliamento a Lignano e recuperato dalla capitaneria di Porto di Grado dunque vedremo nelle prossime ore nei prossimi giorni se verrà fatta chiarezza anche sull'identità proprio di questo corpo noi con questa notizia però concludiamo questo nostro spazio dedicato alla rassegna cronaca adesso come sempre una breve pausa e poi spazio alla rassegna sportiva buona giornata grazie a tutti